Ah, e salve a tutti ragazzi, questo è il Watermelon Channel, quest'oggi vi parliamo di una notizia bomba che è esplosa alcuni giorni fa, magari adesso già siamo in ritardo, magari già lo sapete, magari anche no, per cui ve ne parliamo, e alcuni giorni fa è esplosa una notizia per quanto riguarda Fortnite che è apparso nella lista nera, purtroppo i titoli dei siti a volte possono essere forvianti proprio perché questo è il nostro lavoro ragazzi, i giornalisti purtroppo a volte devono guadagnare in qualche modo per cui mettono dei titoli un po' furvianti, un po' che attivino l'attenzione del pubblico, in realtà questa lista nera c'è, però non riguarda il gioco in tutta la sua totalità, ma riguarda semplicemente la Apple. Allora, ci sono stati un po' di interventi in tribunale, di cause da parte di Apple, e qui Leo avrebbe detto finalmente la Apple che fa una cosa giusta, ci sono state appunto delle cause da parte di Apple per il gioco per il Battle Royale di Fortnite, per cui dopo le numerose cause questo gioco è stato bandito per 5 anni, quindi è stato messo in una lista nera dei videogiochi un po' come lo è l'indice dei libri proibiti, non so se lo sapete, se non lo sapete andatevi a documentare, non sono molti, non sono troppi. Il Battle Royale è stato messo nella lista nera di Apple per cui dall'App Store non si potrà più scaricare il gioco per almeno 5 anni, il gioco non sarà più disponibile tra le varie app, ma questo già da un po' di tempo, non è disponibile già da un po', e infatti ci sono stati molti che hanno trovato delle alternative per giocarci lo stesso. Il motivo, siamo qui per spiegarvi il motivo. Questa novità è stata resa nota dal CEO di Epic Games, Tim Sweeney, se l'ho pronunciato bene, spero di sì, che ha raccontato quanto sta per accadere al gioco del Battle Royale di Fortnite su Twitter e ha scritto Apple ha mentito, Apple ha speso un anno intero a dire al mondo, a ripetere al mondo, alla corte, alla stampa che avrebbero accolto il rientro nell'Apple Store di Epic a patto di aver accettato di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri. Epic ha accettato, ma Apple ora ha rinnegato, per cui c'era un semi-accordo sul fatto che il gioco potesse ritornare in piattaforma a patto che seguisse il gioco le stesse regole di tutti gli altri, quindi anche delle stesse regole che ci sono sulla PlayStation, sull'Xbox, sul PC, le stesse regole dovevano essere implementate anche per quanto riguarda i smartphone. Perché questo? Perché? Perché comunque, allora, il gioco di Epic, Fortnite, è stato semplificato per i smartphone. Io infatti ricordo bene quando ci giocavo sul telefono o sull'iPad o quando ancora c'era nell'Apple Store, perché io ho sempre avuto dispositivi Apple, tranne il portatile che è l'HP, vabbè, ma questi sono dettagli che non interessano. Avevo l'app scaricata sul telefono o sull'iPad e quindi ci giocavo e mi è capitato appunto di trovare incoerenza, nel senso che io, avendolo sul cellulare o sull'iPad, che comunque sono schermi più ridotti, sono dispositivi che comunque alla fine tutte le app facilitano, io ero facilitata proprio nel gaming. Avevo la mira, cioè che mi miravo automaticamente il personaggio, dei vantaggi, diciamo, per gli strumenti di raccolta. Era tutto un gioco molto più facilitato rispetto a quello che poi era effetto il gioco se l'avessi giocato su computer o su PlayStation. Questo perché i tasti comunque erano semplificati, comunque il telefono non ha un joystick, non nasce con il joystick. Lo smartphone o l'iPad appunto hanno la possibilità di aggiungere, di collegare il joystick, ma di base non ce l'hanno. Quindi è normale che, cioè io su questo concordo un po' con l'Epic del facilitare il gioco sugli smartphone o sui tablet, perché comunque è così. Io, cioè, è normalissimo. Io credo che comunque questo sia stato il motivo che ha spinto l'Apple, almeno da quanto ho capito dal tweet che ha pubblicato Tim Sweeney, che è stato questo, perché l'Apple dice io voglio che comunque il gioco torni sull'Apple Store, cioè mi va pure bene, però deve seguire le stesse regole di tutti gli altri. Tutti quanti devono giocare allo stesso modo. Perché l'utente che gioca dallo smartphone o dal tablet deve essere facilitato rispetto all'utente che gioca da PlayStation, da Xbox o da PC? Questo è il motivo per cui appunto la Apple ha messo il gioco di Epic in questa lista nera di 5 anni. Quindi ragazzi, il succo è questo. Allora, il motivo ve l'ho spiegato e forse appunto si parla di 5 anni, non si sa precisamente per quanto tempo, ma per il momento il gioco di Fortnite è stato messo in lista nera dalla Apple, dalla esclusiva Apple. Quindi potete continuare a giocarci senza alcun problema dal PC, dagli altri smartphone che non siano della Apple, o tablet, o anche dalla PlayStation, dall'Xbox e via dicendo. Nintendo anche. Quindi ecco, io spero di avervi spiegato quanto più brevemente possibile, quanto più chiaramente possibile, tutto questo concetto, questo polverone che si è alzato su questa fatidica lista nera. Infatti ci avete chiesto delle spiegazioni al riguardo proprio perché eravate un po' confusi sull'argomento. Spero che adesso vi sia tutto più chiaro. E quindi niente ragazzi, mettete il like se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti per qualunque altra cosa, qualunque altro chiarimento su qualunque altra notizia o anche su questa stessa notizia, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e alla prossima!